Avete adorato l'episodio di Steph vs Fere con i propri eserciti quindi abbiamo deciso di farvene subito un altro Questa volta però faremo affrontare il classico noob con il classico pro Ma non è il classico Steph perché il noob sarei tu che hai perso Mentre invece il pro sarò io che ho vinto perché ovviamente sono il pro delle battaglie e tu sei il noob Non ce l'ha bisogno di ripetere No, sì, bisogna specificare che tu hai perso contro il mio esercito Però se io ho perso avrei bisogno di un aiutino quindi avrei bisogno di utilizzare i pro No, mentre tu che sei tanto forte puoi dimostrare di essere forte Bisogna sempre dimostrare che il noob sei tu Steph perché è giusto così Va bene E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E sono Steph e che si giochiamo a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft dove vedremo un'altra sfida epica Perché questa volta metteremo a confronto i noob contro i pro Chi vincerà Steph non si sa Allora ovviamente vincono i noob perché giocheranno sulla quantità Non lo so Non lo so È presente quel detto tipo un milione di persone armate con una forchetta possono battere 100 persone armate di fucile? No, non lo conosco Steph No? Infatti non esiste Esatto, te lo sei inventato come sempre Però ovviamente allora diciamo subito che il pro sarà solo uno Perché il pro è sempre quello unico inimitabile Tutto un diamante classico proprio super mega classico Pro forte e normale Mentre invece i noob di Steph saranno tanti Avranno tante particolarità Allora Quindi non sarà una sfida banale giusto? Per essere precisi abbiamo tre tipi di noob Abbiamo il noob classico che è quello che vedete lì alla sinistra proprio il super classico Poi abbiamo il piccolo noob che è una sorta di neonato noob Perché nasci proprio già che sei nabbo Capito? Non è che lo diventi Esatto ci nasci proprio E infine il super noob che sarebbe Superman però con la faccia da noob Il supereroe noob fallito Esatto Lui è bellissimo Lui è davvero fantastico Come funziona però? Come potete notare non abbiamo un esercito già messo Perché questa volta abbiamo preparato degli oggetti che ci permettono di mettere proprio immediatamente l'esercito E l'abbiamo fatto perché vogliamo fare più di una battaglia con diverse possibilità Per vedere quando il noob riesce a battere il pro Cosa che secondo me non succederà facilmente Non lo so però ce la giochiamo Partiamo dalla mia skin classica del noob Quindi proprio il mio classico contro il tuo classico Considera che il mio noob è scarsissimo Cioè con un colpo muore Ok Quindi tu ne metti cinque Io ne metto venticinque Quindi la proporzione è di uno a cinque Ok allora mettili prima tu e poi li metto io Perché penso che se poi li metti dopo i miei iniziano ad attaccare Esatto Uno, due, tre, quattro, cinque Li voglio far vedere ne mentre La bava è la cosa più bella Ragazzi ce la faremo Ve lo giuro potete fidarvi di Steph Steph è uno che non mente mai Voi siete persone fortissime che ispirate affidabilità Steph non l'illudere Steph è brutto illudere le persone Lo sai che una cosa brutta non si illudono Andiamo a dieci Quindici Fede siamo quasi pronti Fra poco li puoi mettere Ok E venticinque E venticinque Ce n'è uno in più che sta sopra l'altro ma pazienza Non credo che cambia molto Vai uno Due, tre, quattro e cinque E partono già all'attacco Perché proprio Non li frega niente nessuno Ok ecco i noob Devi sapere che i miei noob hanno una caratteristica Muoiono con un solo colpo Ok Però sono talmente scarsi Che contagiano il fatto di essere scarsi E mettono del veleno a chi attaccano Vedi che infatti I tuoi hanno tutta quella scia verde Sì l'ha detto Quello è avvelenamento Fede Ti avvelenano con la nubagine Un pro l'hanno ucciso Ok Però mi sa che mentre l'esercito dei nubi L'hanno ucciso Quindi allora io pensavo che sarebbe stata una battaglia di quelle schiaccianti Invece se la stanno giocando Quindi perlomeno è interessante da vedere I venticinque ne hanno steso uno E loro sono tutti morti Quindi diciamo che è stata comunque schiacciante È stata triste ma non troppo No no Per me è stata triste Stop Cioè guarda Almeno gli ultimi due stanno resistendo Perché stanno scappando da quelli lì E gli altri che fanno Guardali E dagli una sberla Dai che ci stai dietro Dai scappa bello scappa Che ce la puoi fare Se corri non ti possono ammazzare Ricordatevi è una regola Del mondo Ok perfetto Miei amici Potete essere scarsi quanto volete Ma siete 50 contro 5 Per favore Mi raccomando Concentratevi Perché vi giuro Cioè se perdete Io abbandono qua la battaglia Mi raccomando Vai Fede Allora 5 contro 50 Giusto 5 contro Cioè 1 a 10 Vuol dire che 10 di loro Ne devono semplicemente stendere 1 Non ci vuole Nulla Non possono sbagliare Ok Andate ragazzi Andate alla carica E' bellissimo Però l'esercito dei noob Non vanno visti Cioè non si possono proprio vedere Allora 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 Un pro l'hanno steso O per ora No per ora neanche uno Per ora no Neanche uno Perché sono talmente scarsi Che inseguono soltanto uno Lo vedi Non capiscono nulla Lo vedi Cioè La loro tattica è terribile Cioè c'è un pro Che quasi mimetizzate In mezzo ai noob Però Uno me l'hanno steso E vabbè Iniziano a inseguire No ragazzi Non potete Non potete essere così scarsi Non è possibile Cioè siete In 50 per niente Siete in 50 per niente voi Non è una buona idea Andare tutti sullo stesso Perché così almeno Stendete quello Non funziona Però aspetta Fer Aspetta un po' Ne sono rimasti solo due Io te l'ho detto Che non era una tecnica Così brutta Stef Te l'ho detto Allora Quanti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 contro 2 Devo dire che In chi miei vanno dritti Perché quello che sta dietro Potrebbe attaccarli Ok Forse ce la fanno Stef Forse ce la fanno Dai ragazzi È la sfida più triste Che abbiamo mai visto Cioè se devo essere sincero Fa pena Anche se vincete Non riescono a colpire Notato che non riesce a colpire Perché avvelenano Rendono i pro scarsi Per quello i pro Non riescono a fare nulla Perché Loro sono talmente scarsi Che contagiano tutti Capito È come quando guardi Una persona scarsa A giocare a calcio E magicamente sbagli Anche tu È la stessa identica cosa Loro giocano Su quella tattica Tra 20 anni Ma ce la faranno Secondo me Perché il mio non attacca Guardalo Sì il tuo scappa Scappa e basta E fa bene Non lo so perché Con quelle brutte facce Dove vai? Ce l'hanno fatta Quanti ne sono avanzati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mi pare Allora Steph Io capisco che i tuoi noob Erano in stragrande maggioranza Però non mi piace questa cosa Non va bene che siano Lo stesso riusciti a vincere Ok Cioè non dovevano avere Neanche una possibilità Quindi adesso Io ti metterò il super pro Che secondo me Non riuscirai proprio A me lo vedete Contro questi due Che sono rimasti Trema Steph Trema Ma dai Guardalo che bello Tutto scintillante Ti sta bagliando Dove i diamanti Ti stanno abbagliando gli occhi Non vedi più nulla Steph Dicevo fammelo vedere Contro questi due Lo voglio vedere all'azione Stenderne due Ma aspetta Non mi sta attaccando Forse lo devo mettere Un po' più vicino Eh direi Se lo volevi mettere A casa tua Non lo so Allora lo metto Direttamente nel tuo campo Invasione di campo Invasione di campo Va bene Invasione di campo Vai schiacciali Ok Ok Ciao Ok Ok Chi metti per fronteggiare Il mio super pro Guarda mi metto nella sua spalla Guardami Steph Guardami Sei ridicola Guardami Metto Ciò che tante persone Potrebbero considerare Le bestie di satana Secondo me Perché sono piccoli Sono veloci E sono cattivi Tu li hai creati Steph Sono i piccoli noob Sono come si dice Il frutto della tua Nappaggine Capito Quindi tu li hai creati Ne faccio vedere uno Da lontano Ok vai Guardate Consolini Cosa mi vuoi dire A riguardo Io non commento Il pannolino È la cosa più bella Lo so E tu pensi magari E vabbè ma cosa faranno No sono curiosa Perché so che anche loro Avranno delle abilità Giustamente Attacco di massa ovviamente Perché sono piccoli Ma efficaci Guardali quanto sono veloci Oh vabbè Non riesce ad attaccarli Ma questi Questi sono rimasti qua fermi Andatemi piccoli Sembrano i veloci raptor Comunque Non mi è ridicola Sta battaglia Perché non gli attacca Attaccali Pere come fa Sono troppo piccoli per lui Non l'accetto Steph Pere cosa stai facendo Non l'accetto Gli mando riporti Vai a picchiare Uccidili tu Uccidili Mi ha fatto valare uno tantissimo Esatto Vai Però vai Non devi star fermo Ha scatenato gli altri Ha scatenato gli altri Adesso c'è un doppio esercito Di baby piccoli Che picchiano Comunque Io ti devo dire una cosa Nonostante siano pro Sono totalmente imbecilli Te lo dico eh Te lo dico Non puoi dire tante cose Hai criticato i noob Ma anche i pro Sono un po' De goccio eh Te lo dico Steph Perché non va bene Sta cosa Li dovresti poter schiacciare E rimani così Con le gambe all'aria Che non fai nulla Cioè non va bene Dove è finito l'altro Poi guarda un altro Vabbè Steph Non va bene così Non va bene Non li puoi attaccare Fameli attaccare Fameli attaccare Perché ci penso io A essere il pro qua Quando l'esercito era mio Andava tutto bene Ne metto dei pro Che dovrebbero essere i pro Di minecraft E fanno schifo Cioè lo faccio io il pro Dammi l'armatura di diamanti Steph li stendo io Perché io almeno Sono intelligente Ce la posso fare Quindi dammi tutto a me Perché non li posso attaccare Rendimeli attaccabili Steph Sono seria Rendimeli attaccabili Finito? No Steph Voglio combattere io Non li metto più i pro Basta Mi sono stancata Io sono praticamente sicura Che ti stenderebbero lo stesso Quindi è meglio che non lo faccia Io non ne sono sicura Fanno paura Guardali bene in faccia Fanno paura loro Sono pericolosi Anche se non posso Brutto Stupido Allora Facciamo una cosa Passiamo alle maniere forti Ok Sai benissimo Chi manca dei miei Sai benissimo Quanto è potente E pericoloso Ok Si è preoccupata? No per niente Hai già pensato a come Sconfiggerlo? No Ma che stanno a fare Steph? Perché non combattono? Cioè Io mi giro e vedo questo Che sta girando su se stesso Ok Aspetta Cosa sta facendo il super nubo? Si sta girando piano piano Guardatelo Si è girato Anche il mio super pro Che fa Steph? Ok Ok E' stenuante sta battaglia Mi sta venendo nervoso Steph Te lo dico Mi sta venendo nervoso Perché non è po' Combatti Girati e combatti Porca miseria A te Che fai? Si sta guardando un cielo Ecco cosa sta facendo Le farfalle Vuole acchiappare Super nubo Io declasso il pro a nube Te lo dico Si ma super nubo non ha mai E' morto Si Non ha dato niente un colpo Allora fallo combattere con quello grande Per favore Non c'è bisogno Tanto non picchia il mio Uno di fronte all'altro Prima o poi combatteranno Steph Non picchia Guardalo Cioè adesso lui inizia a prendere le sperle Ma non è ne Ah vabbè tu lo vedi Dove va il super pro? Non lo so Allora facciamo così Vieni via Vieni via Ne mettiamo uno Che magari È un po' più intelligente Ecco qua Tu sei intelligente Vero? Ce la fai? Ok Guarda Guarda essere super nubo Guardalo Guarda 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 Non fa nulla Ti rendi conto che sono stati più forti i bambinetti E quelli normali che questo Dovrebbe essere la battaglia più bella mai vista E invece la più triste mai vista Finito E poi prende cinque sverle Cioè ma di super al fatto che è più scarso degli altri Secondo me Sì è più nub degli altri Quindi il mio è più pro Il tuo è più nub Dai ha senso Beh ha senso Ha senso Ha senso E quindi il più piccolo è un piccolo nub E quindi è il più forte Al contrario va Capito? È vero Perché quando sei piccolo È poco nub Poi cresce e aumenta il nub Sei medio nub E poi super nub Ha senso Questa è una nuova teoria Steph di Minecraft E quindi La scoperta è studiata Il pro normale è un piccolo pro E poi quando cresce diventa un vero pro Un super pro Esatto Vabbè il pro ti devi allenare Che però viene counterato dal piccolo pro Perché Dal piccolo nub Eh esatto Dal piccolo nub Perché Non perdere il filo del discorso Capite? Perché si forma questa sorta di bilancia E quindi Sì Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto tutto Esatto La storia di Minecraft è svelata È andata Steph e Fere Voglio il riconoscimento in qualche libro di Minecraft Perché ti dico la verità Spero che non arriverà mai Ragazzi Lasciateci un like E se neanche una volta che avete il nostro video Potete considerare Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao